Stroncato un giro di spaccio grazie alla proficua collaborazione tra Polizia di Stato e Polizia Municipale di Arezzo. In un'operazione congiunta è stato smantellato un vero e proprio centro dello spaccio cittadino a ridosso della sede del Tribunale, nell'appartamento che era a dimora di un italiano 35 anni ZA incensurato. Il continuo via vai di persone era attenzionato ormai da giorni. Nella giornata del 28 giugno, durante uno dei servizi di monitoraggio, gli investigatori hanno fermato una donna che aveva appena lasciato l'appartamento. A bordo della sua auto sono stati ritrovati 11 grammi di hashish, 15 di marijuana e due involucri in nylon verde contenenti 1,6 grammi di cocaina. Per lei è subito scattata la denuncia per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Solo a tarda notte è scaltato il blizzo in casa del 35enne. Gli agenti hanno sequestrato oltre 200 grammi di marijuana, 100 in un solo involucro, gli altri in altri involucri già pronti per lo spaccio. E ancora un altro involucro in nylon verde con all'interno 4,2 grammi di cocaina, 5 grammi di hashish all'interno del cassetto del mobile della camera da letto e ancora tutto il materiale per confezionare le dosi. Per l'uomo è scattato l'arresto per spaccio di sostanza stupefacente.